Ancora, macchina che raccoglie i concorrenti, primo piano di Ninfa Yes, che sta arrivando a prendere la sua posizione alla via. La partenza, con la lotta per il comando tra Lindbergh-Riff, Nanarella Yes, all'esterno c'è il numero 6 di Mattasdra. La lotta ancora si protrae per le posizioni con Nanarella Yes, che adesso è al comando, Mattasdra che è all'esterno, che adesso prova perlomeno di farsi posto dietro alla battistrada. Cooperazione che non riesce, così Bon Giovanni va a insistere su Luigi Migliaccio, che però vuole stare davanti con Nanarella Yes. Vado via, i primi 400 in 29.7 e poi sbaglia improvvisamente Mattasdra. Sbaglia anche Ninfa Yes, all'esterno è rimasto Foreman-CR, quando Nanarella Yes adesso cerca di riprendere in mano. Foreman-CR una volta rimasto all'esterno si rifa sotto dopo 600 passati in 45.4. Dalla battistrada Nanarella Yes, che adesso ha un altro attacco, quello di Foreman-CR, ha spostato anche Lilla Riva. Seguita da Lloyd WVF dopo 800 metri di gara in 1.1.4. Nanarella, battistrada con spesa, all'esterno Foreman, lì sotto Lindbergh-Riff, all'esterno anche Lilla Riva. Seguita da Lloyd WVF, lungo steccato General ATC. Si arriva al chilometro in 17.1 con Foreman che insiste su Nanarella Yes, sulla retta opposta alle tribune. Quando si va ad attaccare l'ultima curva il duello è sempre quello. Con Foreman, Nanarella alle prese, un altro parziale veloce in 15.5. Si prepara Lilla Riva che ha avuto la corsa più bella del mondo. Con Lilla Riva che va in terza ruota, seguita nell'azione anche da Lloyd WVF. Nanarella Yes però ancora cerca di resistere a tutto e tutti. Retta d'arrivo, dopo un altro parziale di Foreman CR su Nanarella Yes, all'esterno anche il numero 8 di Lilla Riva. Di dentro Lindbergh-Riff, la lotta per il successo è strepitosamente agguerrita all'esterno. Lilla Riva che va a vincere. Con Monti che vince. Con Lilla Riva, corsa venuta a pennello. Con lo speed finale per andare all'esterno di un ottimo Foreman CR, cogliendolo non in crisi ma battendolo sul palo. Mentre per il terzo allargo il 5 di Lloyd WVF, probabilmente precede il 3 di Lindbergh-Riff. 8-2-5 con i conti da fare per questa particolare classifica.